Davide Rossi, una vita trascorsa nel circo e ad esibirsi come artista di strada nelle piazze di tutta Europa, con il Covid non ha potuto più realizzare i suoi spettacoli ed ha quindi scoperto il mondo del volontariato come autista a bordo di un'ambulanza. Ho perso il lavoro come tutti gli artisti, io sono un artista di strada, sono un equilibrista, un giocogliere, siamo rimasti senza lavoro con il Covid, sono andato in un'associazione di volontariato perché ho più di 20 anni che faccio volontariato, e sono diventato un'autista d'ambulanza in questi periodi che non avevamo lavoro. Dopo un anno di servizio ordinario e due anni di emergenza, ha deciso di mettere la sua professionalità a disposizione di quanti soffrono. Si dice che dalle difficoltà spesso possono nascere importanti progetti ed è proprio quello che Davide Rossi, con l'appoggio di Caterina Santonastaso, è riuscito a compiere, investendo i suoi risparmi, ha acquistato un'ambulanza di primo livello, per ora non utilizzata per il servizio d'emergenza del 112, ma solo per trasporti sanitari. Davide Rossi, un dono molto importante, se vogliamo, visto i costi di mezzi così ben attrezzati. Sì, il costo sinceramente sono molto elevati, però non lo so che cosa è successo, forse qualche aiuto dal cielo, comunque non dico neanche che mi sono venduto dei mezzi, delle cose, però comunque ci tenevo a fare questa cosa e l'ho fatta, con l'aiuto anche di Caterina, che è qui a fianco a me, che ho voluto in questa associazione perché sono più di tre anni che lavoriamo assieme. Negli anni di emergenza lei era il soccorritore, io l'autista, e allora ho deciso di chiederle se voleva affrontare questa avventura, di formare questa associazione e chiaramente stare con noi a lavorare. Un progetto importante che ha visto nascere un'associazione. L'associazione Santa Caterina di Labouret, con sede in contrada Cerreto a Francavilla al Mare, a poca distanza dall'uscita autostradale. Sabato prossimo, 9 novembre, nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'associazione, sarà consegnata anche l'ambulanza. Abbiamo proprio realizzato questa ambulanza di primo livello, con tutto il materiale necessario, perché chiaramente questa ambulanza che potete vedere è adibita proprio anche in caso di emergenza, quindi se abbiamo proprio un incidente per strada, noi ci fermiamo, soccorriamo, chiamiamo chiaramente la centrale operativa, il 112, ci interfacciamo e poi chiaramente facciamo l'intervento. Però è dotata proprio di tutto, abbiamo il defibrillatore, tutto quello che occorre per salvare al meglio una vita.